Siamo qui alle Agavi, ecco la presentazione del nuovo menù dello chef tramontano, una nuova linea, stella confermata e abbiamo un'eccezionale tendenza anche delle Agavi, vedo, in un turismo di qualità. Come stai vedendo trasformata Positano negli ultimi anni? Cioè vedi effettivamente questa realtà che sta cambiando? Allora, Positano sicuramente è cambiata perché siamo in era 4.0, però per quanto riguarda il fascino Positano resta sempre unica ed irripetibile e questo praticamente fa sì che veramente ci sia tanto, tanto afflusso e anche di ottimo livello. E state puntando alla qualità, insomma è eccezionale. Come tutti, noi abbiamo sempre, Positano ha sempre puntato alla qualità, quindi non è adesso una... Avete due strutture eccezionali, ristoranti di remese, di spiaggia, che è una location da favola e qui avete praticamente la perla con lo chef tramontano. Allora, seguiremo tutti i vostri eventi su Positano News, complimenti e complimenti anche a voi. Grazie, guardate qua, che spettacolo, questo è solo un po', grazie.